Cambiano sorge su un territorio già occupato da una villa romana del III secolo d.C., ma il primo documento che testimonia l'esistenza del borgo risale al febbraio del 959. Divenne poco dopo possesso del monastero di San Silvestro a Nonantola, per essere ceduta nel 1034 ai Conti di Pombia, poi divenuti Conti di Biandrate. Successivamente Cambiano subì in parte il destino della vicina Chieri, cui era legata, e concorse alla sua ricostruzione dopo le devastazioni operate da Federico Barbarossa. Nel 1248 Cambiano prestò formale sudditanza alla stessa città, ricevendone in cambio garanzie di protezione militare che non ebbe modo di vedere attuate, soprattutto nella burrascosa serie di incursioni della prima metà del Trecento ad opera dei torinesi. Passata con Chieri sotto i Savoia alla metà dello stesso secolo, fu avamposto dello scontro con il Marchese del Monferrato, e dovette successivamente subire altri fatti di guerra, come il saccheggio francese del 1640. Distrutta in questa occasione la chiesa parrocchiale dedicata ai Santi Vincenzo ed Anastasio, essa fu ricostruita nella seconda metà dello stesso secolo, ma solo nel 1740 fu realizzata la splendida facciata barocca firmata da Bernardo Antonio Vittone, e soltanto nel 1883 fu innalzato il campanile, alto 52 metri, e fondato sulle mura dell'antico campanile romanico. Esiste inoltre, nel centro abitato, la Seicentesca Chiesa dello Spirito Santo, posta accanto alla Torre Campanaria di origini medievali. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS